È arrivata una bella boccata d'ossigeno per le casse del comune di Valbondione grazie alle centrali idroelettriche. Sì, dopo parecchio tempo di trattativa che ci ha coinvolto in questi ultimi due anni con i funzionari dell'Enel siamo riusciti a definire questo accordo e formulare una proposta che è stata molto interessante per le casse del comune di Valbondione. In totale Enel ha versato 2.418.000 euro circa e la Giunta ha provveduto subito a fare una valutazione degli obiettivi che voleva raggiungere con queste somme che sono venute nell'arco di poco tempo disponibili per la comunità di Valbondione e ha fatto subito una variazione di bilancio. Ecco, come avete pensato di destinare queste risorse? Allora, abbiamo individuato tre obiettivi, tre criteri di valutazione. Prima di tutto il tema del dissesto idrogeologico che vede il nostro territorio fortemente interessato in modo particolare negli ultimi mesi di questa estate. Poi un altro obiettivo importante è la manutenzione complessiva del territorio proprio finalizzata a migliorare la vivibilità del paese da parte dei residenti che lo vivono tutto l'anno e poi di conseguenza anche da parte di chi fruisce il nostro territorio dal punto di vista turistico. Infine, l'altro grande tema sono i servizi alle famiglie. Destineremo delle risorse anche per iniziative soprattutto rivolte ai bambini in modo da garantire e da dare un sostegno anche alle famiglie che vivono quotidianamente le tematiche legate appunto alla gestione dei bambini soprattutto nelle ore pomeridiane, nei mesi invernali che nei comuni come il nostro di Valbondione magari vedono un po' meno attività proposte nel territorio. Quali sono le opere più importanti che verranno realizzate? Allora, avremo delle opere che interessano, come dicevo prima, i dissesti del reticolo idrico secondario poi abbiamo la progettazione del rifacimento della piazza con il riordino dell'ingresso del paese il rifacimento della copertura della casa vacanze Tremori di Fiume Nero l'adeguamento ai fini antincendio del rifugio barbellino l'adeguamento alla manutenzione dell'ostello della gioventù Casa Corti dove i lavori sono già iniziati per quanto riguarda la parte esterna la sistemazione del cimitero di Lizzola, la messa a norma del palazzetto dello Sport e la realizzazione della presa della centralina idroelettrica di Pianlivere la centralina di Lizzola che attinge dalla Val Grande con la possibilità di gestire anche tutta la parte relativa all'innevamento artificiale per quanto riguarda la stazione sciistica di Lizzola la sistemazione del parco giochi di Fiume Nero con manutenzioni varie che necessita la frazione e altri interventi eccominori che poi in fase di programmazione si stanno definendo con il settore tecnico Opere che verranno realizzate quando? Tutta la parte progettuale e di indizione della gara dovrà essere completata entro dicembre di quest'anno per poi iniziare effettivamente i lavori in maggio dell'anno prossimo per poi iniziare effettivamente i lavori in maggio dell'anno prossimo